Raffaele Palumbo, 61 anni, originario di Andria, ma umbrio di adozione e da ieri il nuovo questore di Chieti, succede a Vincenzo Feltrinelli, che aveva guidato la questura teatina dall'ottobre del 2015. Da oltre 30 anni in polizia, Palumbo è stato questore vicario a Perugia, prima della nomina dirigente della zona di polizia di frontiera di Puglia, Abruzzo e Molise. Nella sua carriera è stato dirigente, fra l'altro, della squadra mobile di Padova e primo dirigente presso la questura di Terni. Raffaele Palumbo è al suo primo incarico da questore. Nell'incontro con la stampa, questa mattina, ha focalizzato la sua attenzione sulla situazione, soprattutto del Vastese, che presenta anche problematiche di infiltrazioni della malavita organizzata. Anche la provincia di Chieti, come tutte le province italiane, non sono isole felici, per cui l'attenzione deve essere sempre alta, un'attenzione anche competente e efficace. Infiltrazioni ci sono state e questo dimostra alcune indagini che sono ancora in corso, soprattutto nella parte sud della provincia di Chieti. e quindi sono elementi che lasciano dedurre che comunque le infiltrazioni ci sono state, ma sicuramente ci sono ancora. Per cui la nostra attenzione sarà massima anche in questo settore, ma non solo in questo settore, anche per quanto riguarda il traffico delle sostanze stupefacenti, perché il recente sequestro di sostanze stupefacenti è un elemento che fa presagire, quindi anche qui, uno spaccio di droga. Poche parole del neoquestore di Chieti sull'omicidio accaduto ieri nella cittadina aragonese con le indagini ancora in corso. È stato un brutto episodio, non posso dire niente perché c'è ancora un'indagine in corso, c'è ancora la magistratura che sta esaminando il caso sotto le diverse angolature, per cui non posso dire niente.